Franco Morbidelli 12esimo, Valentino Rossi 16esimo dopo essere stato penultimo 21esimo in qualifica, mai così male in tutta la sua carriera. In due gare Franco Morbidelli e Valentino Rossi hanno totalizzato 4 punti a testa, 36 in meno del capo classifica Joan Zarko. Cosa sta succedendo al team Petronas Yamaha? Difficilissimo rispondere e naturalmente ci sono anche pochi elementi perché sono state fatte solo due gare ed entrambe sulla stessa pista, quindi diciamo che è poco significativo. Però un paio di considerazioni secondo me vanno fatte. Partiamo da Valentino Rossi. Qual è il problema di Valentino Rossi? Lui lo ha detto chiaramente, è dal 2009, dai test di Barcellona del 2009, quindi parliamo di giugno, dopo il Gran Premio, che ho questi problemi. Fatico ad avere grip al posteriore e la gomma si consuma prima rispetto a tutti gli altri pilota Yamaha. Perché io credo che i motivi siano due. Il primo motivo è nella guida di Valentino Rossi, ha detto lui stesso, devo cambiare qualcosa nella guida. Valentino Rossi nella sua carriera tantissime volte ha cambiato lo stile di guida, ma evidentemente adesso è un pochino più difficile farlo. Personalmente non credo che sia una questione di età. È chiaro che non aiuta, è chiaro che l'esplosività di un ventenne non ce l'ha più Valentino Rossi, ma non è una questione di età secondo me. È una questione di stile di guida. Valentino Rossi fa fatica ad adattarsi a queste gomme. Forse avrebbe bisogno di qualcosa dentro al box, di un sostegno importante dentro al box, ma io credo anche, questo secondo me è il secondo problema, che David, il suo capo tecnico, non abbia l'esperienza sufficiente, inevitabilmente solo il suo secondo anno in MotoGP non ha l'esperienza sufficiente per trovare un bilanciamento ideale. Questa combinazione di fattori fa sì che Valentino Rossi sia così in difficoltà. Per quanto riguarda Franco Morbidelli è molto più difficile rispondere. Fino a ieri tutti dicevamo che uno dei suoi punti di forza era la squadra e il suo capo tecnico, Ramon Forcada. Ovviamente non possono aver disimparato a sistemare una moto. La mia opinione è che la Yamaha 2021 effettivamente è cresciuta molto. E la differenza quindi tra la 2021 e la 2020 è grande e lo è naturalmente ancora di più rispetto alla 2019 e mezzo, chiamatela come volete, di Franco Morbidelli. Ecco, io temo che ci sia una grande differenza a livello tecnico per quanto riguarda Franco. Ma ripeto, è molto molto presto. Aspettiamo le prossime gare. Voi cosa ne pensate? Aspettiamo le prossime.